Da due giorni in via Cavour a Fano si vive un'atmosfera d'altri tempi, un tuffo nel passato con ritmi e profumi di una Fano in bianco e nero, quando questo borgo era l'anima commerciale della città. Oggi, secondo giorno della festa del Borgo Cavour organizzata dagli esercenti della strada, come avviene ormai da 22 anni a questa parte. In effetti sono 22 anni che abbiamo iniziato e la facciamo tutti gli anni, coinvolta da tutti i commercianti di allora, che man mano sono cambiati, ma anche quest'anno hanno contribuito tutti. È una cosa piacevole, insomma, di coinvolgere anche tutto il nostro quartiere, anche per dare un po' alla città un po' di vita. Bene, il menù è un menù, insomma, di quelli tradizionali? Il menù tradizionale è sempre quello, da 22 anni, con le cristiate con i fagioli, la trippa, abbiamo le tagliatelle al ragù rigorosamente fatte a mano dalla nostra ornella, gnocchi e tagliatelle, le piade farcite, tutte fatte da noi, le piade tutte tirate a mano, una per una, salumi e qui da noi, perché facciamo qui l'osteria, abbiamo anche la porchetta. Dopo il successo di ieri, dove migliaia di persone hanno animato fino a tarda notte la strada, dopo aver assaggiato e degustato le specialità gastronomiche con i piatti della tradizione, si sono trastullate a suon di musica. Oggi la seconda ed ultima serata in questo luogo così particolare della città, prima con trada San Leonardo e poi i piatlet, a ricordo di quanti sono vissuti negli stradini, come tanti personaggi importanti della storia di Fano, dove il cibo ha il sapore del fatto in casa. Ma prima di gustarsi un fumante piatto di tagliatelle, spazio anche ai più piccoli, con animazioni fatte ad hoc per loro, e poi foto d'epoca, a chiusura, il concerto finale dei Senso Unico. Chi viene qui a Borgo Cavour per la festa degusta pasta fatta a mano, rigorosamente a mano, stiamo vedendo le sfogline proprio in questo momento all'opera. Sì, da stamattina alle 6 che abbiamo iniziato a rifare la pasta tutta fatta a mano, come sempre, e questa sera qui all'Osteria, qui alla pastificia, troverete lo stand gastronomico della festa, della festa del Borgo Cavour, dove potete gustare le mitiche tagliatelle fatte a mano qui dell'Osteria, le cristalliate con i fagioli e i gnocchi al ragù. Ecco, quindi, insomma, quante uova avete fatto tra oggi e domani e ieri? Allora, quindi diciamo che è impossibile contare le uova, comunque, ieri sera abbiamo avuto tantissima, tantissima gente, abbiamo finito tutto e stamattina ci siamo rimessi tutti con le mani in pasta a riprendere tutta la nostra attività per rifar sì che stasera accontendiamo tutta la gente che viene a trovarci. Allora, naturalmente tu sei quella che porta avanti un po' tutto, però hai tante collaboratrici che ti danno una mano, senza le quali, insomma, è difficile portare avanti il tutto. Sì, diciamo sì, io sono la responsabile, però volevo dire che dietro a me c'è una grandissima organizzazione, tutto lo staff a cui ha tanta esperienza e tanta collaborazione e questo dà il risultato. Anche perché immagino che bisogna far fronte a tante cose anche dell'ultimo momento, quindi dovete essere molto svelti. Sì, da ieri sera, da stanotte che ricuacciamo le patate, rompiamo, facciamo la piadina, quindi è stato un tour continuo, quindi lo staff ci vuole efficace e deve funzionare.